Si è svolto ieri sera presso il teatro sociale Aldo Giuffredi Battipaglia e il convegno organizzato dal Comitato Cittadino Battipagliese per le Bonifiche, laudato sì, Ambiente tra Coscienza e Tecnologia. L'iniziativa ha riscosso grande interesse, nata dall'esigenza di trattare le tematiche ambientali in chiave tecnica, sociale e religiosa e puntare a comunicare ai cittadini lo stato di alcuni aspetti in materia. Hanno partecipato all'evento numerose autorità scientifiche, politiche e religiose. Le conclusioni sono state affidate al reverendissimo arcivescovo metropolita e primate della diocesi di Salerno Campagna Cerno, Monsignor Luigi Moretti. Lo scopo è che la coscienza è per le persone, cioè la coscienza di differenziare, di fare tutto quello che è nel nostro compito. La tecnologia che ci aiuta a vivere meglio in realtà, cioè con l'impiantistica, con le strutture che possono far sì che noi differenziando possiamo arrivare a di più di zero più che altro. L'ambiente è tutto quello che ci circonda e dobbiamo viverci bene, dobbiamo evitare di comportarci, come dice un rap di Grinopoli, il mio progetto educativo, come una fionda, quindi producendo dei danni. Allora, qual è l'idea di base? Noi dobbiamo scegliere, scegliere con coscienza. In uno dei passaggi del rap si ragiona sul fatto che ci sono tante soluzioni, ma bisogna discutere su queste soluzioni. E questo è un tema territoriale molto forte, cioè quanto i territori, i sindaci, i cittadini discutono, come dire, ma discutono in maniera anche animata, però per giungere a delle soluzioni. Ecco, noi questa sera abbiamo la benedizione del Vescovo e quindi in qualche modo, come dire, orienteremo i nostri ragionamenti a un clima pacifico, cosa bisognerebbe fare sempre. Una cosa è certa, gli impianti servono. In questo momento il sistema campano non è al collasso totale perché c'è l'impianto di acerro, c'è l'impianto di termovalorizzazione. L'impianto fu realizzato con la forza. 6-7 anni dopo, quando l'avrebbero dovuto realizzare? Nel frattempo abbiamo accumulato 6 milioni di tonnellate di ecoballe. Allora, l'impianto serviva 7-8 anni prima, meno male che c'è l'impianto, altrimenti il 30% dei rifiuti che noi produciamo andrebbero, e ora partiranno nuovi camioni per la Spagna. Ora, quello che dico io è, noi prendiamo questi rifiuti, li mettiamo su dei camion, li facciamo camminare per migliaia di chilometri, i camion solitamente vanno con diesel che inquina, per portarli poi all'estero e pagare cifre sosissime per fare in modo che i nostri compaesani europei si prendano dei soldi per fare tutto questo. Allora il ragionamento è, forse possiamo farlo noi e farlo bene. E qua c'è il tema della fiducia, ormai adesso non si fidano più. Ecco perché ci dobbiamo affidare alla fede, ormai non abbiamo speranze. La fede è fondamentale per tutto, nel senso che è ciò che dà criteri di riferimento per le scelte della persona. E rispetto al creato, noi viviamo l'impegno a custodirlo, come ci ha dato il Signore. Quindi tutto quello che è l'impegno a creare una coscienza, una sensibilità a vivere questa missione che non è ormai semplicemente così qualcosa fino a se stessa, ma è condizione di salvaguardia per il nostro vivere, per il vivere dell'umanità. Vediamo quello che succede tutti i giorni e si comprende come un impegno su questo campo sia sempre più urgente.